Il Vangelo della prima domenica di Avvento si apre con il Maestro che parla ai discepoli di segni negli astri, di angoscia di popoli, di sconvolgimento delle potenze dei cieli. Quindi, sono segni che incutono timore, ma al contempo annunciano la gioia più grande, l'avvento del figlio dell'uomo con potenza e gloria, una venuta che decreta la nostra liberazione. Allora, questo brano del Vangelo sembra contenere in sé un contrasto. Da una parte c'è la gioia della liberazione, dall'altra il timore per i segni sconvolgenti. Da una parte la venuta del figlio dell'uomo in potenza e gloria, e dall'altra il monito di vegliare per fuggire a ciò che sta per accadere. Allora non si capisce, è un messaggio di speranza per la venuta definitiva del Cristo che ci renderà liberi o un richiamo alla conversione fondato sulla paura? Ma se il Cristo che viene è un evento gioioso, come si fa ad avere paura di un evento gioioso? Come si fa ad essere angosciati per l'arrivo di colui che ci salva e libera? Sembra un po' un enigma. La soluzione sta in che cosa riponiamo la nostra gioia? In cosa siamo abituati a identificare la nostra felicità? Qui sta il punto. Perché il Maestro, come ci ha promesso, è portatore di una gioia profonda, più grande della quale non esiste altro. Se però ci convinciamo del fatto che la nostra unica gioia possibile è vincolata a quelle che l'Evangelista Luca chiama dissipazioni e ubriachezze e che oggi potrebbero identificarsi nelle distrazioni che ci attraggono costantemente, in tutti quegli oggetti nel cui possesso identifichiamo la nostra felicità, ecco che non potremo mai sperimentare la gioia della libertà che Cristo ci dona. Di più ancora avremo paura di quella libertà. Cadiamo spesso nel tranello di una felicità vincolata dal possedere qualcosa, oggetti o relazioni, perché anche nelle relazioni c'è una forma di possesso a volte, e il pensiero di dovercene liberare ci atterrisce. All'inizio di questo periodo di avvento la parola ci rivolge quindi un invito chiaro, liberatevi, liberatevi da tutto ciò che vi lega, da tutto ciò che non viene necessario, da tutto ciò che non vuole che siate felici, bensì vi vuole legati, prigionieri, dipendenti. Il Maestro ci rivolge un invito potente, facciamo piazza pulita di tutto ciò che appesantisce il nostro cammino. Togliamoci quelle catene che se da una parte ci danno sicurezza, in realtà non ci permettono di aprirsi all'immensa gioia che è preparata per noi. Solo così, liberi da questi lacci che ci tengono attaccati al suolo, potremmo scoprire che siamo fatti per un dono così grande che non riusciamo nemmeno ad immaginarlo. Grazie.